Mister, allora lei ha detto che quella di domenica scorsa è una sconfitta che toglie il sonno, è riuscito a dormire poi alla fine, come è andata? No, la domenica non si dorme dopo una partita così, poi alla fine devi voltare per forza pagina perché poi c'è un'altra partita molto importante e quindi la devi preparare come tutte le altre. Dura da digerire perché quando accarezzi la vittoria e poi ti sfugge così, non solo, poi la perdi pure, è difficile, però fa parte del nostro mestiere, non è la prima che perdo così e non sarà neanche l'ultima, quindi ne ho vinte anche di gare così, quindi adesso è toccata a me. Come ci arriva l'Agnone alla gara di domenica a Vasto? Innanzitutto ci arriva con tutti gli effettivi, adesso non ne siamo più molti, ne siamo solo 18, però chiaramente poi diventeremo qualcuno in più durante la finestra di mercato dei professionisti a gennaio. Non so se recupero dei zai, quindi siamo 18-19, credo che ci arriviamo bene perché ci stiamo allenando bene. Qualche novità nel settore offensivo, cosa cambierà rispetto a domenica scorsa? Ma diciamo che non so cosa cambierà perché comunque manca ancora la rifinitura di domani, quindi vediamo. Magari qualcosina sì, potrei anche cambiare. Senta, un'ultima domanda, cosa teme della Vastese e cosa servirà secondo lei per sbancare l'Aragona? Dando un'occhiata al curriculum dell'organico dell'Avastese, è una squadra che comunque ha tante belle presenze in Lega Pro. Sono giocatori che hanno giocato anche in categoria superiore, soprattutto lì davanti. Leonetti, Sciba e Fiore fanno tra virgolette paura. Detto questo abbiamo già incontrato grandi attacchi e nelle ultime tre domeniche, se togliamo questo sciagurato gol nel finale, avevamo chiuso praticamente tre gare senza subire gol. Questo era già un gran bel successo. Quindi loro sono forti lì davanti, ma ci siamo attrezzati dietro anche con l'acquisto di Albanese, che ci ha dato discreta sicurezza. Quindi siamo pronti anche a contrastare un tridente così forte e importante.